Negli ultimi anni, gli strumenti dedicati alla microfinanza non si sono diffusi solo nei paesi più poveri del mondo. Alla base di questa espansione c'è la considerazione secondo cui i piccoli prestiti possono sbloccare opportunità infinite. Anche il Regno Unito, pur non avendo uno specifico quadro normativo, si avvale dell'attività dei CDFI, Community Development Finance Institutions, termine che indica qualunque forma di iniziativa legata alla finanza sociale, sviluppate a partire dagli anni 90. Quando nel 2001 il Governo ha creato il Fondo Phoenix, le attività del settore della microfinanza si sono molto rafforzate. In particolare, il Fondo di Phoenix è stato incaricato di fornire il capitale ai CDFI. L'interesse delle autorità pubbliche per la microfinanza come strumento per la lotta contro l'esclusione sociale appare anche attraverso un certo numero di programmi istituiti negli ultimi anni. Il risultato è che il numero delle microimprese del Regno Unito nel 2013 era pari a 1.495.648. Il contributo delle microimprese all'economia è in aumento negli ultimi anni. La crescita della popolazione imprenditoriale è stata guidata da microimprese che sono aumentate del 40% dal 2000.